Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ormai ho capito che bisogna parlare dall'inizio, da quando dicono stiamo informando i tuoi follower, perché sennò rimani lì con un babbione zitto. Buongiorno a tutti, sono Maddalena Fossati, sono il direttore della cucina italiana e oggi con me ho una grandissima chef, vediamo, stavo già guardando se era collegata, è una chef che sta a Milano, è una chef molto speciale, vediamo se c'è. Vedo intanto Fabio Di Martino Chef, ciao Rita, ciao Luciano, ciao Daniele Mazzitelli, ciao Manuela, ma che bello, allora però sto vedendo se trovo la nostra chef, voi direte ciao Pietro, Edoardo, Ruben, Sabri, Enrico, ma quanti Federica, ciao a tutti Chiara, intanto che scorro però non vedo ancora la nostra Viviana, ecco che l'ho trovata. Allora, oggi siamo, ho lo piacere di ospitare a ora di cena la mitica Viviana Varese, che sta per connettersi. Eccomi, eccola, ciao, ciao, come stai Sara? Bene, voi? Tu come stai? Bene, teniamo duro, come si dice. Io ho problemi di parrucchiere, vedo che io ho anche, per quelli che saranno ancora aperti faranno dei bei denari dopo. Speriamo, speriamo per loro, perché è un pezzo paricchio. Ciao Dattoli, Domenico, vedo che ti salutano, ciao dall'Argentina, insomma c'è un sacco di gente qua, ho visto passare Elio che c'è tutti i giorni, io ormai ho degli abitué e sono molto contento di averti qui, ma dove sei tu esattamente? A casa mia adesso, a casa mia. Hai un terrazzo? Sì, ho un terrazzo, ho una casa piccolissima con un bel terrazzo, per fortuna. Beh, è bene. Sono fra i fortunati, sì, sono fra i fortunati. Il tempo è bello a Milano, vedo. No, c'è un bel sole oggi e speriamo che duri un po' di giorni, anche se dicono che settimana prossima si rovinerà, quindi ci sarà un po' di pioggia. Senti, ho visto passare Valencia, ho visto passare Mosca e ho visto passare la Florida, siamo international e l'Argentina. Senti, ho visto che hai appena iniziato il food delivery, o sbaglio? Sì, è una specie delivery, in realtà non è proprio il cibo caldo e mandato in mezz'ora a casa, perché non mi andava molto quell'idea, diciamo che secondo me per me non era molto qualitativo, ecco. E quindi ho deciso di farle i pacchi, li ho chiamati i pacchi da su a su, perché essendo io meridionale, normalmente il pacco si fa da giù e si manda su. Pacco da su a su, che lo faccio solo il venerdì e sabato e ogni settimana cambio, diciamo, gli ingredienti, la ricetta, do delle piccole indicazioni su come finire, diciamo, questi pacchi, perché in realtà è tutto pronto, però la pasta, per esempio, la devono cuocere loro, perché se la dovesse cuocere io, arriverebbe una schifezza, e quindi diciamo per mantenere un attimino gli standard, il più possibile alti, però ho cercato di fare ricette che fossero ricette classiche, che tendenzialmente la gente non ha molto, cioè avrebbe il tempo di fare, ma sono comunque complicate, c'è un ragù napoletano, una genovese, che comunque ci vuole 12 ore, 14 ore, non è che proprio tutti si mettono a farlo, ecco, anche avendo il tempo. Ma hai cucinato come una pazza? Guarda, ho fatto la prima settimana da sola, 200 coperti, perché tutti i miei ragazzi avevano paura di uscire, quindi io non ho costretto nessuno, diciamo, a darmi una mano, e avevo una ragazza, una ragazza dell'ufficio, che invece non vedeva l'ora, e due mie amiche che mi hanno aiutato, perché comunque la parte logistica non è una cosa da ridere, ecco. Ma, ok, e quando parte? Allora, è già partito, quindi ho fatto Pasqua, adesso ho fatto il menù di questa settimana, che è già partito il Corriere, e ho finito, e sono a casa per questo, perché ho finito, diciamo, la settimana, adesso con qualche cuochino che timidamente vuole venire a lavorare, con le giuste sicurezze, anche perché noi abbiamo 100 metri di cucina, quindi lo spazio ce l'abbiamo, non abbiamo problemi. È bella grande da voi, sì. Sì, 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 sì. Sì, la nostra è bella grande, e diciamo che l'ho fatto principalmente per me, perché non riuscivo più a stare a casa, mi stava venendo la depressione fortissima, e dopo un po', dopo un mese, non ce la facevo più, ho detto, devo fare qualcosa. Nel frattempo salutiamo il Cile, il Venezuela, ma anche Como e Lodi, perché quando comincio a salutare il mondo, giustamente, poi tutti mi dicono, scusa, ma noi che siamo a Milano, o Lodi, così. Allora, già c'è una domanda, perché i cuochi in maggioranza sono uomini? Va bene, diciamo che, ma in realtà ci sono tantissime donne cuoche, se vogliamo dare la parola cuoche, sono tantissime, soprattutto in Italia, dove abbiamo una grande ristorazione di famiglia, quindi tartorie, osterie, normalmente c'è l'uomo in sala che fa l'oste e la donna in cucina, che fa la parte più pesante, se posso dire. E quando, quando, sull'aspetto invece chef, iniziamo veramente a essere rare e poche, perché li diventa...